L'invasione è cominciata. Gormiti Morphogenesis sono mimetizzati intorno a noi. Scoprili. Grazie agli elementi della natura, i Morphogenesis prendono vita e per mezzo della mutazione si fondono fra loro. Libera la tua fantasia e costruisci il tuo gorgore. Mastodontico, fai sfidare i tuoi eroi. Morphogenesis si mimetizzano ovunque. Nuovi Gormiti da Jig. Unite via me!